Allora, ho una domanda molto semplice per ognuno di voi. Ok, vai. Come si pronuncia la prima persona del verbo intimare? Io intimo. Io intimo. Se hai detto intimo, ti informo che quelle sono le mutande, mentre la prima persona del verbo intimare si pronuncia io intimo. Ah, ok, yeah! Baccetti stellari?